GENUANI DEL MULTIVERSO! Oggi c'è! Ma no! Dovevamo farla noi! Oh scusate, ma è stato più forte di me? Va beh, dai, dai! GENUANI DEL MULTIVERSO Oggi c'è Genoa Reggiana Coppa Italia Siamo pronti e siamo in direzione MARAZZI! No, no, oggi no Oggi direzione Italia 1 Quindi ci guardiamo la partita di televisione Perché non siamo a Genova E ci vediamo tra poco per l'inizio della partita Ma prima Iscrivetevi, lasciate un bel like E attivate la campanella Ci siamo, ci siamo Ci siamo Forza Genova Partiti Primo tempo Attenzione Fuskas salite nell'aria Bravo Fuskas Incredibile Si defina un po' E da solo E riesce a perdere forse Nel rimpallo riesce a perdere Niente angolo Attenzione che abbiamo palla Ganda messi in profondità Per Abbs Brandioso Abbs Immenso Peccato Peccato Grande Abbs Abbs può essere una chiave della partita Perché da quel lato lì c'ha Antis Che non è un gran Corridore Da avanti Indietro Abbs E quindi secondo me C'è la bandiera di Nupem Che tanto ci piace Prodi azzardo a dire che finora Nella noia Diciamo più totale La Reggiana ha tentato di fare qualcosina di più di noia Attenzione Un tiro di Tosbu in questo momento Centrale Satalino l'ha bloccato Probabilmente è più pericoloso questo Del precedente della Reggiana Perché almeno c'è stato lo specchio Però niente di eccezionale Diciamo botta e risposta Dalle due squadre Allora stiamo ridendo Perché Escaz ha toccato la prima palla E si è azzoppato da solo Ha cominciato Ha passato la palla Venuto a prenderla Nelle tre quarti di campo E poi ha cominciato a zoppicare Si è fatto male da solo Lea Lì ha fatto una parata Adesso incredibile Mi hanno fermato Vediamo un dissino Martinez Dobbiamo togliere Martinez Così non insiste Dopo vent'anni Ha giocato in porta Così non ne capisco in più Leali ha fatto Un miracolo Questa è stata la prima vera Occasione Pesante Della Reggiana Attenzione Di nuovo la Reggiana Eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua Segnato la Reggiana Che scatto gli ha fatto Guarda Veramente una bellissima palla Me lo potevo aspettare Ora primo tempo finito Stenderei Lo stendi tu Lo stendo io Stendiamolo insieme Ci vediamo per il secondo Speriamo vada meglio A few moments later Partiti Secondo tempo Calcio d'angolo Allora Insomma Turro non è riuscito A prenderla piena Bello Così che palla Puskas Ecco No la palla Non ci credo Non ci credo Io non ci posso credere Io non ci voglio credere Non ci voglio credere Doppia parata di satanino Detto satanino per Halloween Satalino Non ci posso credere Non ci posso credere Io non ci credo Vi ha salvato per due tre volte Dai raga dai Segnate noi Vogliamo Pareggiare Onesto Attenzione grandissimo Ops Caglia Ops Mamma mia Non ci credo Sì Grandissimo Ops Ti amo Sì Che botta ragazzi Bam Camilla stava dicendo Tre secondi prima Certo papà che Ups È su ogni pallone È l'unico Ogni volta che gioca È su ogni pallone Bam Uno a uno Segna per noi Vogliamo vincere The Winter ha preso una testata È stato uno scontro E mi sa che lo cambia Perché ho l'occhio allo zigomo Completamente gonfio La maglia strappata Tra l'altro Ho un buco nella maglia così Girma in mezzo all'area The Winter sopra di due Ok Meno male È andata bene È andata bene Finito ora Il tempo regolamentare Quindi novantesimo Uno a uno E noi Proseguiamo i suplementari Allora partiti Primo minuto Colpo di testa Girma ci ha provato Attenzione Albert In mezzo per Ecoban Tiro di Ecoban Ottimo Sembrava il tipo Il tiro di Matteo Contro la Salernitana Ottimo Fuori di mezzo metro Peccato 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 Prima palla utile Veramente per Albert Ecoban Si è fatto tornare La posizione giusta Ottimo Albert Goooool Seee Seee Ve l'abbiamo detto Seee Continuate a comprare I giocatoroni Con sti nomoni Ce l'abbiamo noi Il pibe del d'oro Goooool Goooool Attenzione Palla in mezzo Esce le ali Sua Dovrebbe essere quasi finito Il primo tempo Mancano penso 30 secondi Sì Partiti secondo tempo Supplementare Attenzione Il Nesta Ha buttato dentro per La Reggiana Gondo Bomber Per lui Si soffre Mancano Sono già passati 4.30 Mancano 10 minuti Palla in mezzo Per Portanova Goool Fuori gioco Fuori gioco Fuori gioco Mamma mia Mamma mia Mamma mia Meno male va Meno male Le ali Le ali uscita Sicuro E sparacchiata lunga E ci fa guadagnare un po' di tempo Mancano 50 secondi Sono tutti spaccati Secondo me potresti farla finire qua Mancano 10 secondi Attenzione Frendrup si rialza 122 E' finita Fischia Sè 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 Senta Albert Cambia da così a così Quindi noi felici e festanti Vi salutiamo E con Camilla vi ricordiamo di iscrivervi Di iscrivervi Attivare la campanella E lasciare un bel like Perché Indovinate un po' È GRATIS Alla prossima Ciao 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 Ciao